Si è svolta allo stantio Luigi Ferrande di Pietimonde Matese l'attesa presentazione dell'allenatore del football club Matese Corrado Urbano in vista del prossimo campionato di calcio di serie D fra l'entusiasmo della tifoseria e della stessa società. Noi lo abbiamo sentito a margine dei lavori e sentite che cosa ci ha detto. Il nuovo allenatore Corrado Urbano, cosa promette a questi tifosi di Pietimonte e di Vairano? Sicuramente massima professionalità. Insieme alla società cercheremo di allestire una squadra che possa dare delle grandissime soddisfazioni a questa terra, a questa nuova società dove ho visto tantissimo entusiasmo e noi dobbiamo essere bravi ad alimentarla ancora di più. Perché credo che poi l'entusiasmo insieme all'organizzazione faccia la differenza in questa categoria. A proposito di differenza, la sua professionalità, la sua conoscenza della serie D e anche di campionati superiori? Io cercherò di mettere a disposizione tutte quelle che sono le mie conoscenze, le mie competenze, la mia esperienza. Però non è che l'allenatore può fare tutto da solo, ha bisogno anche di tutto il contesto, come sto vedendo, che ci sia una buona organizzazione, che si riesca a creare un ottimo gruppo. Perché poi alla fine la cosa più importante è che noi dobbiamo ragionare con il noi, non solo con l'io. Perché la cosa importante è il gruppo in una squadra. Ecco, a proposito di squadra, ci può annunciare qualche nome che hai in testa per questo football club matese? No, al momento nomi non ne possiamo fare. Abbiamo fatto diversi sondaggi, diversi colloqui con dei giocatori. Sicuramente arriveranno 7-8 giocatori di categoria. Di categoria che significa che hanno già disputato minimo 3 o 4 campionati di serie D. Sì, poi a questi andremo ad aggiungere degli under, perché questa è una categoria che bisogna iniziare dagli under. E a questi andremo ad aggiungere anche i giocatori che tra le due società, secondo noi, nel momento in cui andremo a valutarli, potremo tenerli nella rosa per completare la rosa tra gli ex Vairano e gli ex Treppini. Ecco, a proposito, un'ultima domanda. Lei conosce qualcuno di questi giocatori che potrebbe far parte di questa società? Certo che sì, ne conosco più di qualcuno. Però tutto questo, diciamo, al momento non è ancora la nostra priorità. Nei tempi giusti valuteremo tutto e tutti. Le porte saranno aperte per tutti. Nessuna preclusione nei confronti di nessuno. È chiaro che andremo a disputare un campionato in una categoria diversa. E purtroppo non è che potremo tenerli tutti. Dovremo fare delle scelte, delle scelte che saranno valutate sul campo, ma senza pregiudizi nei confronti di nessuno. Dallo Stadio Ferran del Tutto, Lorenzo Applauso.